Salve a tutti ragazzi, io sono Fabio e questa è Team Fortressing Italia, offerta dai canali di FDF1 Channel. Iniziamo con gara 2, dopo la prima gara di chi ha visto come vincitore, appunto, Mental Glacier. Qui i piloti sono pronti, ecco partiti, Shari parte primo perché a causa della disconnessione non è potuto partecipare a gara 2. I piloti sono adesso alla curva qui del tornantino, ma fra chi tocca Shari, poi c'è un contatto anche tra gli altri piloti, Pupuoti si gira, Francesco si vede costretto a rallentare improvvisamente, l'auto di Tori Roll è segnata da contatti, c'è stato un visibilissimo problema all'inizio del via, qualche pilota un po' troppo frettoloso ha cercato di approfittare delle traiettorie diverse che si creano appunto al via, specialmente quella curva molto molto complessa, creando diverse situazioni pericolose, tra cui i passi contatti, ma la direzione in gara poi prenderà provvedimenti, qui Mental nel frattempo è già sesto e si è prestato a sorpasso su Canna 72, Pupuoti va per Margherita in fondo e quindi siamo su un avvio di gara ma tutt'altro che noioso, Shari ha provato un sorpasso incredibile su Atti, mentre Valle di Gioca 34 si porta sotto all'auto di Marco Più 86, Shari ci è saluto con una sferalata e Atti segue, poi Fabio Bubbio un po' in difficoltà in diecima posizione, Francesco dietro il dicesimo, tornerò il dodicesimo, attaccato ora da Francesco che prova un sorpasso, si sposta sul lato interno ma senza grossi benefici, qua Mozzo con la sua auto tutt'altro che anonima sta conducendo la gara, nel frattempo Ricky RS porta avanti il suo team in seconda piazza, seguito a ruota da Mental Slasher che è già terzo e si appresta ora a un attacco ai danni del piloto sulla Ferrari verde, ricordo che i BDP sono attivi, i piloti hanno preso vantaggio sugli altri, quelli che sono stati più in grado di gestire anche il setting dell'automobile hanno avuto i maggiori profitti in termini di gara, qui Mozzo arriva qua davanti, lo si gira, perde controllo, Ricky era la sua traiettoria, lo colpisce, non poteva farci niente, purtroppo la situazione è molto molto al limite ma Mozzo ha perso completamente il controllo in traiettoria, Ricky era largo per lasciare lo spazio interno a Mental che nel frattempo ha preso la posizione e quindi non ha potuto fare altro che centrare il pilota era attualmente in prima posizione, portandolo fino alla quattordicesima probabilmente, no alla tredicesima posizione per Mozzo veramente un contatto che non ci voleva, due giri incredibili bubbi, nel frattempo al quattordicesimo dalla nuova posizione anche lui, evidente difficoltà, non si riesce a capire se dovute a contatti o errori personali ma poi anche qui verranno valutati al termine della gara, Cannes nel frattempo dopo tutti i problemi che si sono vedi ligati davanti a lui si è portato in terza posizione, seguito da Agatino, poi qui fra chi va largo passa Marco, passa anche Francesco che si porta in settima posizione, Tonibro al decimo dopo il problema iniziale sta pian piano rimontando, c'è il dodicesimo che lui purtroppo ha avuto quel contatto che l'ha portato verso l'esterno, quindi siamo con Pupoti e Fabio che lo passa proprio in questo momento molto facilmente, probabilmente ha avuto un errore, ha fatto un errore Pupoti lì dopo la curva della Schumacher S, nel frattempo Mozzo è sceso in potenza in posizione, o l'auto ha aggiornizzato o si è creato altri problemi da solo con un po' di tensione che si è creata dopo l'evento di Pupo Canzi, mentre nel frattempo registra 1.56, 719 il primo giro lanciato della gara Ricky RS lo segue con 1.58, infatti si è già perso un po' il contatto con il primo in classifica mentre Canna è attaccato da questo coppetto, da Gattino che lo passa lì al tornantino mentre Vale viene attaccato qua da Francesco in modo molto pulito, ora Francesco si porta l'attacco di Atti, mentre Atti viene attaccato da Canna che, o meglio, Atti probabilmente ha provato un attacco su Canna che è andato molto largo per far passare Gattino e quindi ha tentato un attacco anche Atti, ma per adesso le posizioni rimangono invariate, Francesco anzi forse tenterà un attacco più ad Atti, ma no ci sono ancora qualche metodo di troppo per attentare l'attacco qui Atti, prova il sorpasso su Canna, lo affianca, lo sfiora e passa, un sorpasso veramente estremo, ma molto bello, porta il pilota in quarta posizione ai danni del suo rivale che ora si vede attaccato dalla coppia, il portesco Vale lì dietro di sicuro vede un'attenzione molto, molto, molto rivabile, che hanno qualche difficoltà di trazione, gara 1 ha avuto diverse difficoltà, si è provato a controllare questa Ferrari veramente imbestialita, qui Popotti va, un po' inderafata e perde controllo, anche Mozzo qui, grande ingresso in curva, scenografico quanto forse un po' in alto livello di prestazioni, gara, che perdi qualche secondo, ma regali molto spettacolo, aumenta nel frattempo, si è dato alla fuga, Ricci ormai distaccato di diversi secondi, ora si trova già qui sul rettilineo, mentre Ricci deve ancora effettuare la curva che lo porta poi e vede in fondo che arriva, 1,55, 164, 5 orci di gara per la mental smasher, grandissimo passo, anche quello di gara 1 per lui, la rivietta di Metallica sta martellando veramente pesante, Ricci, un'onestissima seconda posizione, una prima gara difficoltosa, dovuta a una serie di contatti e problemi vari, anti per la Gattino vale lo stesso, ora qui in terza posizione, il passo per stare qui ce l'ha, anche Atti, 1,58, ultimo passaggio, 1,58 anche per Francesco, mentre vale giro sui due minuti, ha appena passato Canna e tornerò subito lì dietro, prova l'attacco su Canna, perde un po' il controllo, quindi non riesce adesso a passarlo, prova qui un po' sullo sporco di tutta la pista, prova qui, sull'esterno, sull'interno, per chiedo scusa, della curva, prima della staccata, e lo passa molto gimente, molto pulito, si butta all'attacco di Vale, con la sua auto degli Spirri, una libra tutt'altro che seria, qui vediamo su l'auto di Shari, che ora gestisce una nuova posizione attaccata da Marco, mentre Canna, 72, sbaglia e lascia praticamente strada sia a Shari che a Marco, che supportano in ottava una nuova posizione, e lì che nel frattempo ha passato a Menta Slasher, probabilmente ha fatto un errore il pilota in testa, precedentemente in testa, scende fino alla terza, quindi sì, è un probabile errore da parte di Menta Slasher, mentre qui Bubbio è alle prese con un attacco ai tanni di Lupoti, ennesimo attacco da parte di Bubbio che sta continuando nella sua rimonta, ora qui passa Flachil, che lo lascia abbastanza tranquillo, non tenta una risposta o una difesa troppo evidente, e Monzo nel frattempo con una replica, mi pare, della Ferrari di Marons, si trova in quattrocenta posizione, mentre Ricky comanda la gara in prima piazza, e porta il team diviso con Fabio e Bubbio in prima posizione al momento, una gara completamente differente agli antipodi tra Ricky e Fabio, uno nel completo agio della prima posizione, l'altro nella disperata azione di rimonta. Qui Francesco ormai è già quarto, ha riuscito passare diversi piloti, una guida molto pulita da sua, che ripaga con l'andare della gara, forse, si è trovato imbottigliato in mezzo a troppe bagarre, troppi scontri, troppi scorse tra altri piloti che l'hanno rallentato visibilmente, ormai il suo distacco da Menta e da Ricky è veramente evidente, mentre qui Shari, in settima posizione, riesce a saluto qui con i fari, e si butta alla fuga di Marco, ma Marco non lo vuole far scappare, nel frattempo ha fatto la sua sosta in box e lei non ho, quindi potrà provare un undercut, la sua strategia, quella di fermarsi nei primi tirini, tipo verso il terzo o quarto giro, per puntare poi a una rimonta con un passo costante, e spesso gli è fruttata perché ultimamente si piazza spesso in, chiedo scusa per la ripetizione, di piazza nelle prime posizioni ultimamente, verrà T, è un'evoluzione niente male da parte sua, qui Ricky entra in box e lascia passare Agatino e Mental, che prendono il comando della gara, mentre tornero ormai è già quarto, e qui Ricky, la macchina di Ricky ha qualche problema con le ruote, sembrerebbe, ma il gran pantuismo con i lobby ha questi piccoli errori di lag, nel frattempo Ricky rientra, ancora nono, sta passando adesso, uuu, Tornero si è girato, sta passando adesso un canna sul treguardo, Tornero, perde il controllo, magari con Vale, adesso sta cercando di riprendere la posizione da perso appunto dovuta a un perditi controllo lì in alto a un antino, si toccano un po' qui, ma nulla di che, adesso prova qui all'interno, perde di nuovo la posteriore dell'auto e colpisce di nuovo Vale, veramente un sorpasso, ora sono fianco a fianco, cerca di sorpasso qua all'esterno, e gli riesce, poi Vale forse ha un po' il piede per lasciargli la traiettoria, perché l'ascrizione diventava molto pericolosa, nel frattempo Tony ha già preso un po' di margine, e si cerca di lanciare verso la posizione di Mantel, anche se quasi raggiungibile, perché si trattano di diversi secondi, cioè qui è quinto, Atti è sesto, ormai già ha fruttato tantissimo la sua sosta, Marco ottavo, e Francesco dietro a Marco in non ha posizione, quando lui mi sta raggiungendo, è proprio lì dietro, mi sta proprio visibilmente raggiungendo, forse Marco fa un po' la tappa a Francesco, che prova qui l'attacco sull'esterno, ma non ha favore di traiettoria, ha addirittura anche la stringere per lui, poi Marco invece qui Bubio inderappata, esce dalla curva, molto molto spettacolare, ma come dicevo prima, lo spettacolo non li paga in secondi, anzi, comunque i tre minuti sono molto molto vicini, nel frattempo Pupot registrisce la gara qui dietro, Mozzo è 13esimo, Maritmi è 14esimo, o c'è stato qualche problema da parte sua, ma no, è dietro ad Atti, e quindi siamo di nuovo alle prese con un bug di lobby da parte di GT, non mi stupisco più di niente, dopo il problema registrato sempre qui al Nurburgring, nella gara, in gara 1, dal capitolo di G3 che appunto offriamo su questi canali, dove diversi piloti si erano trovati in posizioni sbagliate, al seguito di un crash di un pilota, qui i piloti sono rimasti tutti in pista, ma probabilmente c'è stato un bug ai box, quindi Rikki si trova adesso talmente in quarta posizione perché Atti è terzo, ma viene in vista per un quattro dicesimo, non si riesce bene a capire le matini perché, perdonatemi se poi inizierò ad avere qualche difficoltà con, appunto, nella lettura della classifica, ma le situazioni sono difficili da gestire per chi commenta, mentre nel frattempo qui sta comandando la gara con un passo sul 55 basso, ma a gattino non è da meno, ha fatto registrare un 55.3 e un 55.5, quindi è un ottimo passo per lui, un passo che si riesce a registrare anche con auto un po' più stabile di queste Ferrari che sono veramente delle bestie di Satana, e quindi direi che è un gran passo da parte sua, Atti anche lui ha fatto registrare un 55, 450 e gira adesso sul 57, quindi è un po' più instabile come passo, ma non tutto sommato è un buon passo anche il suo, Kanna qua dietro è in 2.01, ma non è dietro adatti, bensì a dietro adatti c'è Riky, ricordiamolo, Shari è in sesta, quindi Kanna in quinta, e Tony Roll adesso qua attacca Vale per la settima, perché appunto come tengo a ricordare, si sta parlando di una posizione di mira per i piloti qui davanti, quindi Bubio non è dicimo, ma è undicesimo di conseguenza, Vale adesso sta per essere attaccato da Tony Roll qui alla S prima del variante per poi arrivare a ritmi neocchi, sono molto vicini sia a Vale che Francesco e Tony Roll, mentre Marco li sta osservando un po' più distante, nella speranza di un sorpasso, per uno sbaglio, appunto di uno dietro lì davanti, adesso si può prendere Shia su Tony Roll, vediamo se in fondo è la curva per un attacco, per un attacco, per un attacco, per un attacco, ma allora già si sposta, si sposta sull'auto di Bubio, che passa adesso qui sulla curva, mentre vanno tutti sull'esterno e mi pare che Francesco non abbia passato con i Tony Roll perché sono rimasti invariati, esatto, nel settimo, come settimo è la prima, è ottavo, ti do scusa ma mi viene molto difficile ricordarmi di Ricky che è rimasto in fondo mentre lui è quarto, quindi ti do scusa ancora, adesso di nuovo il problema di lobby perché a Gattino è dato primo, Atti secondo, Canna terzo, non esiste mentre Silenched che invece sta comandando la gara, quindi non... di nuovo della pata Bubio, Parchiele decimo, Motto undicesimo, Kupoti dodicesimo, ma penso che sia in quattordicesimo la prima posizione perché il Re, il Mentor è il tredicesimo, mentre Ricky è il tredicesimo, però vediamo che è davanti a Gattino Mentor, quindi siamo proprio di fronte a un doppio problema, sia per Ricky che per Mentor Slasher, quindi non so cosa dire ragazzi, a Gattino qua sta provando ad attaccare la prima posizione di Mentor Slasher, vediamo se gli riesce, perde poi controllo dell'auto qui sull'uscita della S, adesso vediamo se sul pitto non c'è assolutamente lo spazio, è un attacco, mentre ha un discreto vantaggio su a Gattino, dietro Atti in terza piazza e poi un po' più staccato c'è da Ricky, possiamo vedere dalle immagini, un po' di fuori e cosa ci conviene, ok? Qui arriviamo dalla staccata, dal tornantino, mentre Shari che è in quinta, con onestissima posizione Shari, Vali in sesta, Antonio Roni in ottava, in settima Francesco in ottava, Marco in nonna e Fabio in decima, se Marco prova l'attacco su Francesco e non li riesce, deve resistere mentre arriva anche l'attacco di Puglio, che però ricordiamo ha fatto un p-stop alla fine del secondo giro e quindi dovrà in qualche modo gestire poi le gomme, perché nel decimo giro ti vediamo che parte di nuovo di sedere la Ferrari di Puglio e vediamo Canna in undicisima posizione, Mozzo in dodicesima, Frachil e Popoti a chiudere il gruppo il gruppo Popoti sta per essere doppiato, no, 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 niente, è la mappa che impazzisce, è vicino a Frachil Popoti qui siamo con Mendeslation che sta per ultimare la Schumacher S, si porta alla staccata in fondo, come del rettilineo, come della S arriva qui alla S molto, 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 molto uscito ha i cordoli, cerca di prendere lo spazio impossibile, infatti il suo, la sua guida lo sta premiando, ha preso un po' di margine da Gattino che gira qualche decimo più lento, qui siamo con Ricky che ha preso Atti, Ricky ha preso Atti e si è portato in terza posizione Ricky ha preso Atti e si è portato, no, chiuso scusa, in terza posizione andiamo qui in fondo, siamo dal tornantino, Atti li fai fare, spostati un po', fai passare dai, fai passare qui, qui sul tornantino proprio all'interno, lo prende all'interno e passa, ma Ricky riesce a tenere la corda esterna ma resiste al sorpasso di Atti, grandissima reazione di forza da parte di Ricky che si viene sempre attaccato dai piloti forsennati ed è uno dei migliori veramente a difendersi in queste situazioni, prova qui adesso sulla curva a destra, passarlo sull'esterno Atti tutta la pista, ha preso tutta la pista per passarlo, tutta la pista e ce l'ha fatta Atti è davanti, ma Ricky non desiste e cerca di nuovo di contraattaccare, qua all'interno lo tocca un po' si girano i due, Atti perde, è brutto la macchina, ma Ricky lo lascia passare, Ricky lo lascia passare si riaccoda dietro ad Atti tutto ripristinato come prima, Ricky riprova l'attacco, di nuovo lo tocca, Atti resiste, tiene la terza posizione siamo arrivati ormai alle battute finali, ragazzi, manca un minuto e mezzo circa alla fine della gara quindi questi sono gli ultimi duelli che determinano l'ultima casella disponibile per il podio ormai Agatino e mentre Agatino hanno chiuso la pratica prima e seconda posizione direi sono veramente davanti rispetto agli altri e quindi vediamo adesso come si evolve Agatino va in box, Agatino va in box non capisco questa strategia non è chiaro siamo l'ultimo giro siamo l'ultimo giro, qui siamo con Tony Roll in sesta posizione Agatino è in box passano atti ricchi passano anche Mental evidentemente perché è davanti a tutti Agatino ha passato la griglia perchè Agatino dovrebbe essere arrivato un secondo però non riesco a capire l'ultimo giro per cui veniva in box in box con un in questo proprio all'ultimo arrivo non è chiaro l'undicesimo giro dopo che eravamo all'ottavo Shari chiude come sempre in derapata con un grande stile di sportiveggianza Publio ha perso il controllo dell'auto proprio all'ultimo all'ultimo giro chiude in undicesima posizione no in decima scusi in decima posizione veramente molto molto strano no undicesima ragazzi perchè Mental non ha ancora finito ma ha fatto a questo punto un giro più perchè ci troviamo nella situazione in Italia per cui Agatino e Mental stanno continuando a correre questa cosa ragazzi non riesco veramente a concepire tutti hanno finito la gara tranne Pupoti, Mozzo, Mental e Agatino probabilmente perchè al punto il gioco ha visto perchè erano in terza posizione e in tredicissima posizione e in quattredicissima posizione e quindi secondo loro arrivi dei primi gli da quel tempo per arrivare a chiudere la gara ma in teoria allora non c'è chiudere il giro qua infatti ora vedremo arrivare l'Eventan sul tremuardo che chiuderà appunto penso prima infatti chiude la prima posizione e Agatino chiuderà in seconda ragazzi quindi vi saluto e vi ringrazio per aver visto questa gara Agatino nel frattempo esce un po' qui vi ringrazio, vi saluto e vi invito alla gara di GT3 che verrà postata nel weekend prossimo e quindi da Fabio un saluto buona serata, buona giornata ragazzi e alla prossima grazie